Ciao a tutti ragazzi, sono Black Kane e siamo in compagnia di Fulmi e Dark Ghost e in questo video, che è il secondo episodio, ci siamo risvegliati nelle backrooms e ora siamo in un'altra modalità, sempre delle backrooms dove si può giocare da soli in coppie, in trio, in quartetti e in sestetti Quintetti non c'è, non si sa per quale motivo Eh, Quintetti l'hanno saltato, non lo so perché Dove state? Fra, vieni? Seguimi Livello 0 Non fai entrare No, Plecani è andato da solo Ah no, ok Ti hai messo livello 0 Io sì Eh, ok, siamo tutti e tre insieme Graficamente non è male Ok, ho messo la grafica al massimo, dai che bello Ok Ok ragazzi, cerchiamo di non perderci Attenzione a non perdervi Che è il terrore Che sta facendo l'aria sol? Anzi, chi è che sta friggendo un maiale? Ok, il triangolo per la torcia Ragazzi, si sente friggere? Chi è che sta friggendo? L'acqua Vabbè, abbiamo questo Sottopano di acqua bellissimo Eh, beh, faccio Io partecipo Nata maniera Ragazzi Ragazzi Ma c'è un'uscita? Ragazzi, ci stanno le frecce Le cane C'è una frecce Non vedo le frecce Io mi fido delle frecce Io no Arrivano le frecciatine Da quella parte Ma quanto pare? Pessima questa Sta molto, non parla Lec, faccia un po' di commentare Sù Eh, scusa Non c'è bisogno di fare qualche battuta Per far ridere gli spettatori Intrattenere il pubblico Vabbè, non c'è bisogno Fino a quando non c'è qualche mostro Che ti fa bestemmiare No Non bestemmiare Non bestemmiare, non bestemmiare sai Io mi dividerei E chi trova l'uscita? Fermo Fatti i suoi Fermo Perché c'è il mostro che fa anche le voci Lo senti? Ecco Andiamo Venite Da sto lato Ora comando io E Black ne va avanti Anzi cambia lato Black Oh Come stai? È uguale Ma L'uscita o l'uscita qua? È impossibile sta zona Questa quando esco io È uscita pure voi Ma va Uff Sono una fan di datitempo Così si salda Ottimo Oia Oh Oh Punto di domanda Non stai neanche lì Oddio Che c***o era? Ti state trasportando livello 1 Tieni duro Raga si è sentito rompere la finestra però F***o F***o Io vado Ciao E che mette il modo di correre Combo Fritz over to al modo Witter Wtf C***o Cosa è stata sta esplosione? Si è sentito Oddio Oddio Oh no What the f*** Oh no Erman è morto Può respawnare però Oddio è lì È orribile Ma è un p***o di ragno Run Get you run Get you run Sono solo che è orribile cosa Quanto la mamma di Erman E che c***o Noi siamo da un'altra parte Non ci siamo dove però Non sa qualcosa No fa freddino Non so Copriti Sto coperta Non c'è bisogno che non lo dici No No E' luce che f***o Col c***o Col c***o T'ammazzato Sì Ho sentito Eh sì sono appunto di prima È morto Ci sono dei E' luce che f***o E' luce che f***o E' luce che f***o Ha detto qualcosa da dirti No no Non pago le tasse No sto scherzando Cos'è? Cos'è? Siccome è al buio Impazziamo e moriamo da soli Un ragazzo Avevo Quel mostro Di m***a Dietro il sedere Ma da dove si esce? Non si esce No ma siamo al punto di prima No Sono giro lungo Noi No non è il punto di prima Erman c'è che raggiungeci Non so che dire Ce l'abbiamo sopra Oddio Vika Io vi saluto Ci sentiamo più tardi Ciao Muori va la rompere circa La moneta Ah fra dobbiamo andare all'inizio Moneta Macchinetta Ok andiamo all'inizio No non sto morendo Sono sopravvissuto Sono da Erman E poi devo venire io Ce l'ho la moneta Gioco deficiente Ah la voleva che l'aveva in mano Gioco handicappato Visione C'ho una cosa che si chiama Visione sorridente Traduci Che cazzo ci devo fare Ci vuole una moneta L'ho fatto Ce l'ho in mano Il coso che sei Che ha Che devo farci con questo ora Bevilo Bevilo Eccovi Find 4 Watch Fra c'è l'ho preso il coso Che ci devo fare Dalla macchinetta Che cazzo Che cazzo è messo Secondo me Dobbiamo Metterglielo Sul Sul maestro Adesso che Però la bibita Del Del pisello Il mostro Non appare Lerman Che cazzo Non serve a niente Non funziona Dai però Che gioco tarocca Me l'ha tolto Me l'ha tolto Tutta la fatica Per prendere quel coso Dalla macchinetta Me l'ha tolto Ma ora lo vediamo Attraverso i muri Io lo vedo Attraverso i muri Non più Che gioco tarocca Sì però vuol dire Che non serve un c***o Quel coso Ma che minchiera Devevo fare Sì E' vero Tu mamma No Mi sei un figlio di c***o Una camperuna Che c***o Ho trovato Ho trovato il livello successivo Livello 2 Che c***o è Porca p***a Mi figlio tutti sai Questo è un labirinto Allora Ah mi ricordo Qua c'è un mostro Che se lo smetti di fissare Ti uccide Che se lo smetti di fissare Ti uccide Oddio Eh questo è un pochino più preoccupante Chi ha ucciso? Ha ucciso tutti Credo che questo sia più difficile Da fare Come livello Questo Qualsiasi decisione Ah Credo che dobbiamo aspettare Che passi Esatto No E' troppo veloce Devi sentire bene la musica Quando sta per arrivare Adesso arriva Adesso arriva Adesso arriva Ah Ah bello Sta arrivando No Ora si Ora si Ah Ah no 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 Ma è un figlio di p***a Ah 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 Concordo Bisogna aspettarlo Eh ma quando fa Dobbiamo aspettare Che fa tutto il caro di doio Allora Ritorna ritorna Andiamo Eh ma il problema è che ci avviciniamo a lui Dobbiamo entrare subito nel prossimo Sì Eh E' facile Non è difficile Muore Davide Muore Davide Non muore Davide Con te ci metto un po' a tornare indietro Diciamo Che bello che è Mi immaginate a un certo punto Fa l'atezza finta Non se la aspetta Nessuno Sono venuto addosso Guardate Eh sì Sì Sopra un bambolotto di È diventato gigante per un attimo Ha fatto un jumpscare In un certo punto si gira e entra nella stanza Eh 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 Muori Ok Terza finta No ragazzi Come è troppo facile Ma è terza finta No Oddio Oddio Quanto cazzo è un musscorridoio Fran non fare il Quanto cazzo è un uomo Non è vero Non è vero Non è vero Non è vero Raga io ci muoio Raga non ce la facciamo No non ce la facciamo Ma come è vero Ma come è vero C'è C'è pure partito prima Non ce la facciamo Corri 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 Ok Ora qua dobbiamo aspettare Che torniamo indietro Partiamo in bomba Appena passa No non ancora Però secondo me torniamo indietro Appena usciamo Secondo me torniamo indietro Appena usciamo È difficile Facciamo una prova No Ok Secondo me dopo di questo Dopo di questo Dopo che rientra Ora Ora andiamo Su me riparte ora Subito dopo Adesso Adesso dobbiamo fare Quando se ne sta andando Appena passa andiamo Quando ritorna Mentre ritorna Vai Siamo per morire Tra tre Due Uno Arriva lo stronzo Dai Dai Faccio all'ultimo Io Ve l'ho detto raga Ve l'ho detto Metti TFK Sì Oh ma io mi superi incazzo Ma vedete Kerman Ma la farà in teoria Se uno di noi arriva al successivo Passiamo tutti Giusto? E prima Così è successo Tanto avere il meccanismo Lo sappiamo È facile Devi aspettare che torni indietro Sì sì Tieni full la stamina Vai Quando finisce sto strazio? Non lo so Corri Corri È finito Apre 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 Non si apre Ma fa qua Livello 37 Uh che bello Ci sono Ci sono C'è una figa Ah no Un triangolo Scusate Un tubo Un cerchio Che cazzo Sembra diventato portal Hai presente Quella challenge Che facevano Prova a morire 50 modi diversi Su minecraft Ecco È la stessa stanza era Erman bevi che questo è Piscio di cane? No Un animale bruttissimo Un animale bruttissimo Non si vede un cazzo con la torcia Si scende Erman è diventato rosso Erman è diventato rosso Eh si è imbarazzato Ah ok Ah ok La luce Ha visto Erika Ma si vede Con questa torcia C'ho la grafica al massimo Ma perché è buio proprio totale Ma in video mi si vedrà un Vabbè il gioco Avranno più paura Gli salettatori Ok c'è qualcosa qui C'è un triangolo Dobbiamo portare i triangoli dietro Secondo me Pezzo triangolare Andiamo Andiamo a portare Stiamo tenendo delle forme di parmigiano bianco È grigio Non è solo parmigiano Cos'è quella cosa È il babbo di Erman Chi è Ecco è veramente il nome che mi ha detto Fatela a tutti Sì sì qua raga Allora dovrei metterlo Io sto senza microfono È d***a che deve censurare Noi stai senza microfono E fra io registro il video E l'audio tu lo fai Ah vabbè sto registrando anch'io Let's go E c'è l'ho il triangolo Che devo fare Vabbè io non lo so Eh vabbè l'ho messo io raga Comunque io livelli della fiscina li detesto Non mi piacciono Comunque abbiamo scoperto che c'è Il babbo di Erman Che f***o Erman saluta tuo padre Vai Vai a fare i f***o Guarda se io se ce lo trovi a me in faccia non lo vediamo vero? Dicevo io Dicevo io Oh cristo Oh cristo Oh cristo Guarda il babbo di Navi davanti è brutto No è tuo padre Mi sta ignorando No Mi sta camperando Blecane Blecane È morto Non ci vedo niente Sono da PS4 Non ci vedo niente Figurami se ero da qualcos'altro Vedo però Non vedi tanto Raga è bruttissimo Ma se non sei sull'acqua non ti vede Sono in tutt'altra parte della mappa Dove tutto è giula Dove tutto è giula Sì sono da tutt'altra parte Raga Cos'è il quadrato questo? No Il quadrato Il quadrato ho trovato Dai questo lo mette Erman Prendilo 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 Ho trovato il labirinto di Ho trovato il labirinto della piscina Oddio no ti prego Vai Erman dobbiamo tornare indietro Senza farci uccidere Bravo non ci ho perso No 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 Adesso di quante In teoria Anche se l'ho trovato io Te lo faccio mettere a te Ti do l'onore Grazie mio amore Che schifo non farlo mai più Se non lo metto io D'accordo Faccio io Raga manca la sfera Sono in un punto della mappa inutile Non ho capito Sì 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 Qua c'è la sfera Qua c'è la sfera Ah è perfetto Pezzo sfera Prendile e portala qua Sembra una palla Una palla E trasporta a livello divertimento Le ver No black Ma cosa è Benvenuto La musica è un po' strana Non è molto divertente Ah ho capito quale Il compagno di pleccane Ti devi Auguri black No naga c'è il peluche Ma cosa hai bisogno da fare No 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 Mettilo qui Mettilo qui Che bello Ho sentito ridere Che carine No raga Non è buono Spuntassata Da qui Non so io Non è buono Non va qua Ce ne vuole uno diverso E noi ve lo troviamo Eccolo Posso metterlo io? Mettilo Ma no raga la hosta è inquietante Ma Ma vera La hosta è inquietantissima Ma non è neanche questo Ha tipo una sorta di Cappuccio E' questo? No Raga ho trovato quello che conosceva il mio Qui esplode C'è gente brutta da me E' passato un omino cattivo Come troppo all'oggetto inutile Mi hanno mangiato Ma raga ma bevono candecina qui però C'è candecina ovunque Ecco perché sono tutti malati Oddio Magari ci fa questo? No Oddio Un pupazzo Vai raga deve tornare solo indietro Deve tornare solo indietro E' anche disturbante No no ma ha visto Ma ha visto? Scusa Ok 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 No non c'è più 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 Non prenderlo in giro Che pete ammazzo Aerman Fai un bel salutino Oddio Ok andiamo Ok andiamo Proviamoci Ok non ci vedi istantaneamente però E' girato di spalle E' sempre il momento di fare festa No 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 io ti voglio bene ti voglio bene sono tuo amico sono tuo amico Ci si può abbassare in qualche modo per non farsi vedere o ti vedo lo stesso Ok andiamo a scappato Comparso Di qua Vai have a great time Raga Raga dove stanno i tavolini non ti vede Ho troppo il pupazzo Sto tornando Vai bravo Basta il latte Dai sta musica mi sta facendo uscire fuori di testa Dove lo devo mettere il pupazzo Io mi sto facendo tutto il giro per capire dove devo andare Ho sbloccato la zona nuova Let's go boom Ma forse è riuscita E' brutta Livello 3 Erman è uscito per caso non l'ho visto No no Lug Ok perfetto Punto ragazzi io farei anche l'outro Domani io finirei domani l'episodio Eh no e fra lo dobbiamo finire ora Perché sennò ricomincio da capo domani Andiamo Eh vabbè Stato sono tra le 10 Erman Aiuto non fare il pupazzo Ricordati che io Io mi sbaglio in sé a differenza tua E' le 10 e mezza vai a dormire no? Break da... Ah ok dove mi troverà una crewbar Corrente Ehi se muoio io esco sappiatelo Dove sarà la crewbar Ho trovato una giura nuova Ma si sente lì in italiano Nel sottofondo Vabbè un po' di Italia In questo video Raga Raga un pedi di porco Un porco Cos'è stato? Cut wires Tagli i fili Raga dov'è che le ricordo? Lo voglio anch'io Questa stabile avete? Non riesco a starvi dietro raga E io springo ogni due secondi Appena l'avevo disponibile Ma non c'è luce È già tagliato Il live